Questa è la Camera, questo è il Senato, sono delle proiezioni, uno studio dell'Università di Bologna che dà praticamente una vittoria netta del centrodestra alle prossime politiche. Ma si sa, negli ultimi anni i sondaggisti hanno sbagliato clamorosamente i sondaggi e quindi il voto lo riteniamo ancora in bilico. Sarete voi a decidere il vincitore, non vi diremo per chi votare, non è naturalmente il nostro compito, però ci permettiamo di fare un identikit del candidato ideale. Gli chiediamo di spendersi e di prendersi delle responsabilità chiare, degli impegni con gli elettori. Per esempio il candidato ideale deve essersi visto negli ultimi anni qui a Bassano, deve essere stato a contatto con il territorio, deve aver risposto alle istanze di quest'area. E quindi, per esempio, deve aver lottato in prima linea per ottenere i fondi per il restauro del Ponte Vecchio e poi ancora deve essersi impegnato per tenere qui sul territorio del Tribunale e in futuro dovrà farlo ancora per riaprire il Tribunale della Pedemontana. E poi ancora il candidato ideale, a nostro avviso, deve stare al fianco delle famiglie bassanesi, in particolar modo al fianco delle famiglie che hanno perso tutto dopo il crack delle ex Popolari Venete. Devono essere risarcite queste persone, sia chiaro. E poi, come ultimo punto, il candidato ideale deve tenere presente che questo è un territorio importante dal punto di vista economico. Servono delle iniziative di legge chiare per rilanciare l'economia della Pedemontana e quindi bisogna stare al fianco delle piccole e medie imprese. Detto questo, naturalmente sarete voi a scegliere, siete liberissimi, andate a votare perché è un diritto ed è un dovere. Sappiate che, insomma, in qualche modo potete cambiare il destino di quest'area.